Il punto vendita a Visenzi al Campo Grande di Brescia è ospitato venerdì 25 maggio il 2018 Racing Experience, un evento per celebrare il ventesimo anniversario della collaborazione tra Givi e LCR Honda, il team di MotoGP di Lucio Cecchinello. All'evento erano presenti i due piloti del team, Taki Nakagami e Cal Crutchlow, che dopo aver scambiato qualche battuta con il numeroso pubblico presente, hanno firmato gli autografi a tutti gli appassionati presenti. Allora c'è da dire che il nostro presidente, il signor Visenzi, prima che essere un produttore di accessori per la moto, è stato un pilota, ha corso con parecchie motociclette e la passione per la motocicletta è sicuramente caratterizzata da sempre il suo lavoro. La collaborazione con Lucio comincia 20 anni fa, anche se in realtà Pettegolezzi ci dicono che Lucio ha cominciato addirittura 4 anni prima della data ufficiale. Il lavoro del signor Visenzi non è solo produrre un accessorio, non è solo un accessorio estetico su una moto funzionale, ma è un accessorio che parla di passione e la passione non può essere che è legata al mondo motociclistico. Devo dire che è un rapporto meraviglioso, adesso non voglio dire sciocchezze, non è per l'intervista, ma veramente Lucio è una persona meravigliosa, è un professionista, è un signore e anche i piloti del team sono veramente delle persone meravigliose. Sono dei grandi lavoratori, non sono solo dei campioni, ma sono delle grandi persone, dei grandi lavoratori e con gente di questo calibro non si può che lavorare bene. Assolutamente tantissimo orgoglio e addirittura siamo riusciti a raggiungere frangenti del mercato in alcune zone del mondo particolari proprio grazie all'immagine di Givi su una moto da corsa. È vero, il connubio potrebbe sembrare molto strano, una moto da corsa e i bauletti da moto, ma in realtà è una cosa che davvero funziona molto perché si parla di passione. Nell'occasione Givi ha approfittato anche per presentare l'ultimo modello dei suoi bagagliai. Questa è stata chiaramente un'occasione importantissima, non potevamo perderla. Entro breve lancieremo in commercio un nuovo bauletto, un nuovo bauletto laterale che si affianca alla famiglia dei bauletti Monochayside, un bauletto che si aggancia su tutti i nostri telai, lo dico per i nostri appassionati, i nostri conoscitori, un telai del tipo PLX e PLXR, ha un bauletto da 37 litri, V37 si chiama, un bauletto da 37 litri con un impatto estetico meraviglioso sulla moto che non allarga la coda della moto e che vi permette di stipare fino a un casco modulare. Grazie.